Dopo il cinema, la TV, il mondo dei videogame propone una serie di nuovi titoli ispirati ai serial televisivi, quasi un modo per continuare a passare ore piacevoli con i personaggi del piccolo schermo che più ci hanno interessato e divertito. Il servizio. Se vi siete emozionati nel seguire su Rai 2 e le disavventure dei superstiti di Lost, serie girata all'isola Hawaii, allora vi appassionerete anche al videogame omonimo da qualche giorno in vendita per console e PC. Nel gioco si può immaginare di essere un sopravvissuto allo schianto del volo Oceanic 815 e di trovarsi disperso su un'isola deserta. Mille le sfide da affrontare, soli ed assieme ad altri personaggi. Non manca un misterioso passato da esplorare, assieme alla ricerca di un modo per tornare a casa. Il mondo dei videogame sta attingendo a piene mani alle serie TV di successo, è uscito da poco per PC e console, il gioco ispirato a RIS e Delitti Imperfetti, giunta alla quarta serie. Qui il giocatore e la sua squadra hanno a disposizione tutti gli strumetti scientifici per analizzare le prove raccolte sulle scene degli omicidi e portare a termine le indagini. Non manca poi il videogioco di CSI, Crime Scene Investigation. Siamo alla terza versione di questo titolo per computer che ci produce nella polizia scientifica di Las Vegas alle prese con i casi più intricati e indagini high tech. Genere diverso infine per il gioco tratto da Desperate Housewives, casalinghe desperate sempre per PC. Qui l'avventura si svolge alla ricerca di scandali e segreti, ovviamente nei panni di una casalinga dell'immaginaria città di Fairview.